Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Soarin e all'appuntamento settimanale con il Manga News 24 probabilmente l'ultimo per un po' di tempo a causa di alcuni problemi personali che spero di risolvere nel più breve tempo possibile ma sicuramente fino ad ottobre sappiate che difficilmente riuscirò a far uscire altri video vi chiedo scusa già da adesso però sono veramente veramente impossibilitato a mettermi a girare video a fare altre cose diciamo di questo mondo mi dispiace tantissimo però ci tenevo a fare quest'ultimo almeno per avvisarvi durante i format, i video diciamo un pochettino più seguiti del mio canale prima di iniziare vi chiedo di lasciare un like in iscrizione al canale no questa volta in realtà no per il semplice fatto che spero di tornare il prima possibile come ho detto ma non so effettivamente quando sarà quindi per questo video non ve lo chiederò vi dico però che in descrizione c'è il link Pampling quello assolutamente sì e col colice Sorin ancora attivo potete acquistare quello che volete e in più ricevere un paio di calze completamente gratuiti del tenente a casa vostra e questo ve lo dico perché su Pampling effettivamente ci sono delle offerte veramente veramente fantastiche quindi magari andate a darci un'occhiata ora ragazzi non ci resta che andare con una brevissima sigla e iniziare subito questo nuovo video grandi notizie arrivano per tutti coloro che vogliono recuperare in questo momento Fullmetal Alchemist infatti dal 26 ottobre sarà in vendita uno speciale starter pack contenente i primi tre volumi dell'opera ma al prezzo di due stiamo parlando ovviamente dell'ultimate edition il costo sarà di 24 euro e il prodotto si potrà trovare in tutti i canali di vendita sia fisici sia online attraverso l'ultima anteprima scopriamo che torneranno le Variant di Natale i numeri 1 in edizione Variant incartati diciamo come regali appunto di Natale l'anno scorso erano stati scelti come titoli Bleach e One Punch Man mentre i titoli che sono stati scelti per quest'anno saranno Jujutsu Kaisen e Sakamoto Days ricordo che il prezzo per questi volumi è quello di 9,90 euro settimana scorsa abbiamo fatto il recap degli annunci degli ospiti di Star Planet e J-Pop questa settimana abbiamo anche la conferma per l'ospite che è stato invitato da Ikari si tratta del loro probabilmente autore di punta ovvero Masaaki Ninomia ovvero il creatore di Gannibal è stata annunciata anche la nuova Steelbox il titolo scelto questa volta è Alita e la vendita inizierà mercoledì 20 settembre alle ore 10.00 il prezzo abituale di questa iniziativa ormai è quello di 24,90 euro all'interno si troveranno sempre Variant, Magnete e Cartolina ma quello che è più importante è ricordarvi che il link del prodotto si potrà trovare sui canali social di Planet e non andando a cercare Steelbox direttamente sul sito panini.it ci sono nuovi aumenti per quanto riguarda alcuni titoli di Star Comics dal 1 ottobre infatti i volumi arretrati di Heavenly Delusion passeranno tutti definitivamente a 7,50 euro mentre quelli di Fairy Tail e la missione dei cent'anni a 5,20 euro ultima notizia è che sta per arrivare la seconda stagione di Goblin Slayer dal 6 ottobre ogni venerdì verrà caricata una puntata su Prime Video a partire dalle ore 21 la produzione è affidata ad Ainit e ora ragazzi partiamo con le uscite manga di questa settimana e partiamo come sempre dalla Star Comics e dalla new edition di One Piece che arriva anche lei al traguardo dei 100 volumi dopodiché ci saranno le classiche uscite mensili di Detective Conan anche in questo caso con la new edition che arriva al volume 39 e Dragon Ball Ultimate Edition invece con il volume 17 uscirà il romanzo di Hair Blue Sky a te che conosci l'azzurro del cielo Shirayuki dei capelli rossi arriva al volume 23 Toyo Eternity al volume 19 e ci sarà anche il ritorno di Yadachi con Mix volume 18 concludiamo Star con Magical Girl Rizuka al volume 3 e Welcome to the Baroon il volume 5 ci saranno due debutti per Salda Press Teogonia e Kuma 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 Beer il quale verrà presentato sia in cover regular e sia in cover variant più alcuni gadget con entrambe le versioni che saranno diversi in base all'edizione scelta per Magic Press invece arriveranno la principessa sacrificale di Re delle Bestie con il volume numero 13 Finder arriva al 12 e sarà disponibile anche con una cover variant esclusiva per Amazon e l'entai TS Revolution entrando in casa J-Pop ci sarà l'uscita del box di Trasparente serie che promette emozioni e crudeltà emotiva continuerà Dandadan con il volume 8 Il mio matrimonio felice arriva al terzo The War of Greedy Witch arriva al secondo mentre un altro debutto sarà quello del volume unico Adolescenza Maledetta una raccolta di storie brevi dell'autrice Aya Fumino continuerà la nave di Teseo col volume numero 6 Don't Call It Mystery arriva invece al secondo mentre Smile Down The Runway al sedicesimo ultimo titolo è Ina Change che continua con il secondo volume per tutti coloro che non hanno già acquistato il cofanetto completo concludiamo come sempre con Planet Manga e l'arrivo dell'attesissimo Black Box di Tsutomu Takahashi il titolo sarà proposto sia in versione cofanetto contenente i 6 volumi della serie completa ma anche i volumi saranno acquistabili singolarmente usciranno tutti contemporaneamente questa settimana debutterà una nuova storia dedicata a Marmalade Boy ovvero Little che racconterà la storia di Rikka e Saku My Home Hero prosegue con il volume 10 Tenken reincarnato in una spada con l'undicesimo l'usuraio arriva al volume 42 mentre un altro cofanetto di questa settimana sarà quello di Ayashimon dall'autore di Esparadise anche in questo caso si potrà acquistare sia con il cofanetto comprendente i tre volumi in questo caso della serie completa ma anche con i tre volumi sciolti che usciranno sempre comunque questa settimana tutti e tre dovrebbe finalmente vedere la conclusione la collection di Evangelion con il settimo numero che Yaku arriva al volume numero 5 mentre l'ultimo debutto della settimana sarà Ijin Getonshon Demon Hunter storia ambientata nel corso del periodo Edo concludiamo Planet Video con le ristampe infatti arriveranno i volumi dal 6 al 10 di Happy di Naoki Urasawa ragazzi io con questo vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video ma non solo tutti i video fatti fino adesso ringrazio tutti coloro che hanno commentato qualsiasi video che l'abbiano condiviso che mi abbiano scritto su Instagram che facciano parte del canale Telegram anche se magari non si fanno sentire mai vi mando un abbraccio grandissimo e spero di sentirci al prossimo video il prima possibile ciao a tutti e una buona serata ciao a tutti